ciao la taroli oggi parliamo di un accessorio sottovalutato e molto importante guarda un po qua è questa classica bronzatura da ciclista anzi in questo caso una scottatura infatti ieri ho dimenticato la crema solare piccolo accessorio da tenere sempre presente nel nostro zaino insieme con i quattro attrezzi per riparare la bici serve insieme gli integratori un po d'acqua ci vuole anche la crema solare specialmente se stiamo in montagna all'aperto o anche a mare dove si aggiunge anche il riverbero dell'acqua vorcice dell'acqua se in questo caso i raggi solari hanno un'azione ancora più forte sulla nostra pelle e potenzialmente dannifici infatti se è vero che i raggi ultravioletti penetrano nella pelle stimolano la produzione di melanina e quindi responsabile la bronzatura è anche vero che è causa di irritazione della pelle specialmente per i due a una penne molto chiara quindi ricordiamoci sempre protetti in testa protetti agli occhi protetti le ginocchia protetti anche sulla pelle crema solare ciao 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 ciao